Moreno Saita manca poco la sfida con la San Cataldese, un derby che ritorna, un Gela che si sta preparando alla grande e arriva da bene quattro vittorie consecutive, nove gol fatti, soltanto uno subito e l'abbiamo definita la squadra bianca-azzurra un vero e proprio rullo compressore, però con la San Cataldese è considerato che un derby non sarà facile. Abbiamo fatto un buon rollino di marcia, sappiamo che la partita di domenica è abbastanza difficile anche per via della riprendita che si è accesa lo scorso anno quando il Gela vinse il camminato di eccellenza, è un derby quindi loro ovviamente saranno non accagniti, però metteranno più voglia, forse perché in questo momento noi stiamo andando anche abbastanza bene, quindi non sarà una partita facile, ma del resto come tutte le altre. Più volte il tecnico Pietro Nervantino ha definito il Gela una vera e propria famiglia, d'accordo su quello che dice il tecnico? Sì, assolutamente, io sono sempre più consapevole che la forza di questa squadra è il gruppo, quindi il gruppo è la cosa fondamentale per andare avanti, quindi sì, sono assolutamente d'accordo con quello che dice il mister. C'è se vogliamo da vendicare sportivamente parlando la sconfitta subita in Coppa Italia con la San Cataldese che poi vi ha eliminato dalla competizione? Sì, 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 ma noi eravamo ancora in fase di allestimento, come si dice oggi il calcio d'agosto non ti conosco, quindi diciamo che quella di domenica è stata una partita totalmente diversa da quella che abbiamo affrontato in Coppa Italia. È chiaro che c'è sempre una sorta di rivalsa, vogliamo appunto riscattare la sconfitta che abbiamo subito in Coppa Italia. Sei consapevole del fatto che sei nelle ultime quattro gare di campionato il portiere però battuto, soltanto un gol? Ma guarda, non sono cose a cui faccio particolarmente caso, a me interessa prima di tutto l'andamento della squadra, se poi le prestazioni a livello personale sono positive, ben venga, però prima di tutto vengono le prestazioni di squadra, quindi se andiamo bene a me è la cosa che interessa principalmente. Per puntare a cosa? Puntiamo a fare bene, non ci poniamo obiettivi, stiamo stupendo in questo momento, è la cosa che ci interessa fare di più, ci interessa riportare la gente allo stadio, quindi vogliamo divertire e vogliamo divertirci.